7.07, buongiorno, benvenuti su Crystal Radio, benvenuti a Good Money Milano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai, Lorenzo? Tutto bene, tutto bene. Tutto bene? Oggi è mercoledì 22 novembre 2023. Se vuoi ti do un almanacco di oggi, così proprio in partenza. Cosa succede? Oggi moriva nel 1963 a Dallas il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald. Il 22 novembre 1963, quindi è 60 anni, no? 6, 12, 70, 60 anni. Buongiorno, buongiorno a tutti. 331, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5. Come sempre iniziamo molto bene, vedo. Sempre belli svegli. Questo sembra che pure a mezzogiorno non te lo so dire. Quanto fa 63 2023 meno 1900? 63 più 60 fa 20, non lo so, sì, 12. 6 più 6 fa 12, so solo questo io. Vabbè, comunque sì, moriva a John Fitzgerald. Sì, a Dallas. Con tutto quello poi che ne consegui. E forse uno dei primissimi complotti, cioè non lo so, no, beh, dopo Giulio Cesare, forse che quello fu un complotto effettivamente. Però no, da lì nascono un po' tutte le teorie complottistiche di qualsiasi cosa. Beh, quegli anni lì poi c'era l'area 51, c'era gli UFO, tutte quelle robe lì, insomma. Vabbè, andiamo avanti. Si parte con la musica. Annalisa, ragazza sola. Annalisa con ragazza sola. Ti confermo sì, sono 60 anni dal 2023 al 1963, sono 60 anni. Ma questo vi dà l'idea di cosa significhi per noi dover incominciare a parlare mezz'ora dopo essersi svegliati, perché questa è la verità, cioè più o meno è quello. No, non lo resta. Cioè mettiamo in dubbio anche delle cose che sono banali come un 63 più 60. No, ma per me non è banale, anche alle 12, ripeto, veramente, sono negato per questo. Sei discalculico? No, 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 sei solo un po' pirla. Esatto. Non so, così, voglio capire qual era il problema. Si può dire, o non è più politicamente corretto dire che sei un po' pirla? Non lo so, non lo so. È la verità. Esatto. È oggettiva. È oggettiva. Come dico io, è oggettiva. È oggettiva, è oggettiva. Possiamo farci altro. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5 per scriverci, darci il buongiorno. Mia nonna faceva spesso questa battuta, no? Quando sono da bambino facevo una cosa, dicevo, ah, che stupido. E lei, non chiamarti per nome. Ah, sei simpatica. Sei simpatica, è molto simpatica. Sì, no, però era simpatica. Un saluto a nonna Bruna. Così, non c'è più, però, va bene. È qui nel box con noi. No, non c'è più. Suonava strano, suonava strano. No, ho una gigantografia sua nel mio laboratorio del garage. In realtà è un mezzo laboratorio dove smonto computer, faccio cose, vedo gente. Smonting, esatto. Sì, sì, un pochino, faccio concorrenza. Vedo che Smonting sta, che sono stati i nostri ospiti ormai più di un mesetto fa. Saluto ai ragazzi di Smonting. Stanno, hanno preso piede, molto, molto, molto. Vanno in giro a smontare macchine? Sono contento. No, fanno le loro iniziative, seguiteli, fanno la peri Smonting. Pubblicano molte foto, visto che stavano cercando, l'avevano già detto anche da noi, un posto in cristale. Sì, una sede, una sede. Mi sa che l'hanno trovata, quindi... Oh, bene, bene, sono contento. Sono contento. Intanto ci scrive Alberto al 33178535555 e ci dice un saluto Fabio Lorenzo, buona giornata a tutti, questa mattina tanto sonno, se ne siete accorti anche voi. Qui sicuro. Ieri sono andato a letto prima rispetto al solito. Eh, forse quello, sei abituato. Sono abituato a dormire più di 5 ore. Hai tagliato il bioritmo, il bioritmo, capito? Sì, sì, me lo dice un'app che avevo scaricato. Ah, ma ciò che vedi? Sì, quella che ti svegliava nel ciclo del sonno giusto. Vedi, vedi, vedi. Mi ricordo, mi ricordo, su Windows 3, prima di 1995, quando Windows era un programma, non è un sistema operativo, c'era questo assurdo programma che ti faceva vedere le curve del bioritmo, fondamentalmente delle curve sinusoidali, cose del genere, che andavano avanti, e c'erano i punti di congiunzione tra, non so, salute, psiche, così, che non so, però, la minima idea di, cioè, perché ti dicesse che era così, cioè, non è che avevi dei biometrici addosso, delle cose, se ti puoi chiedere a nome e cognome e data di nascita, tipo, cioè, era un po' come quella roba che mettevi da... Ce l'avevi tu, quelle cose? No, non ce l'avevi. Che mandavi l'SMS col nome tuo, nome della fidanzata, il sogno di diacare, ti diceva quanto duravate? Non l'ho mai fatto, però sì, erano anche della mia... Sì. In generazione, però, quando si era alle medie, elementari, ecco. Sì, ecco, no, io ero già sposato. Io li vedevo, ma non avevo nemmeno il telefono, secondo me. Ecco, no, no, no. E c'era anche, penso, la stessa cosa, c'era anche la stessa applicazione su una sorta di... Tab, non so come chiamarlo, la Casio, faceva una robina che era... Palmare. Sì, faceva il My Magic Diary. Era una roba così, era una roba assurda. Poi te lo farò vedere, anzi, chiederemo magari a Eri B che ci sta seguendo di venirci a sbloccare questo ricordo, perché lei è molto, molto capace e sa tutto sul My Magic Diary. Non lo conoscevo. Sì, sì, era della Casio. Ovviamente noi poi ci regalavano quello della marca a noi, perché costava troppo. Luce Verde. E questa era Gaia con Cega, benvenuti a Radio Bahia, siamo su 96.2 di Radio Bahia, non è vero, siamo a Cristal Radio, ma siamo comunque molto... E mi piace, mi piace che mi piace questa qua, più l'ascolto che mi piace. Sono tre anni che la stai ascoltando, perché 2020... Lo so, lo so, però mi è piaciuto adesso, mi è piaciuto ancora uno scoppio ritardato. Molto... Sai cosa, forse? D'estate mi infastidisce, perché c'è già tutto il clima estivo, invece adesso mi scalda. Va bene. E quindi, grazie, grazie a Gaia. Allora, ufficio programmazione. Posso chiedere Italo Disco? Cega madrugada. Posso chiedere Italo Disco allora? Non lo cancellare. No, 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 ma te la metto. Per sentirsi un po' più... Ma adesso che, mo' chiamo l'ufficio... Ho bussato dalla porta dell'ufficio... Programmazione, moglie, la chiedo e te la canti tutta. No. Non mi inonda in doppia voce con tu che la canti. No, 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 no. Non sarei mai all'altezza. Non fare lo spiritoso. Oh, hai sentito, Morgan? Basta, eh? Sì, ho letto. Ho letto. Ciao, ciao. Bye, bye, Morgan. Ho cercato la notizia, era uscito il comunicato da due minuti. Ah, sì. Vi invito ad andare a leggere l'articolo sulle 24 ore. Sì. Pagina Cultura. C'è un articolo bellissimo. Adesso poi vi vado a cercare il nome di chi l'ha scritto, perché vi faccio 30 complimenti. dove racconta la storia in una maniera bellissima e spiega che in realtà l'unico vera vittima e carnificio è lui, è se stesso. Cioè che lui è la... Lui deve fare i conti con se stesso, è questo il problema, no? E quindi... Ma la racconta molto bene senza essere... E gli dice... Poteva essere un grande cantante, ma il suo ego ha preferito portarlo a far diventare la televisione, la sua principale iniziativa. Poteva essere un grande personaggio televisivo, ma la più grande arte in cui eccelle Morgan è l'arte di farsi cacciare. E poi da lì va avanti a raccontare. Non sono d'accordo sul fatto che sia tutta colpa di Morgan. No, 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 ma infatti... Io ho letto un tweet veramente che sintetizza tutto. Eh, sta girando, sta girando. Quello che dice tutto Fedez, c'è tutto tutto. No, no, no. Lì c'è il complotto. No, non è contro Fedez, è semplicemente sul fatto del... È stato cacciato per lo stesso motivo per cui è stato chiamato. Ah, sì, sì, sì. Come quando... Ma che io non sono di certo filo sgarbiano, però quando... Però degli amici gay, così non si diceva, però degli amici sgarbi. Degli amici sgarbi. Però quando qualcuno se la prende con sgarbi, perché... Sì, non sono razzista, ma però... No, no, la cosa è che se uno chiama una persona come sgarbi e come Morgan, vuole che faccia lo sgarbi e il Morgan. Quindi X-Factor... Stavolta forse però ha fatto un po' troppo il Morgan. Ha fatto un po' troppo il Morgan, però intanto ne stanno parlando tutti. No, ma infatti, secondo me lui c'è... Cioè, sostanzi, io penso, io fossi il produttore, eccetera, certo... Simon Cowell. Sì, Simon Cowell. Arriva il Simon Cowell dall'Inghilterra? Certo che prenderei tra i giudici uno che fa sconquasso. Pensa che tra ieri sia uno dei più vecchi giudici di X-Factor. Tra parentesi, X-Factor, da quanto sembra, ritorna quindi a tre giudici, come era da format originale. Perché noi siamo stati i primi a mettere il quarto giudice in Italia. Il format originale era appunto Maionchi, 21... Io lo guardavo quando era su Rai 2, con Facchinetti... Chi posso dire una cosa impopolare? Era molto bello. Il più bravo conduttore di X-Factor. Facchinetti, ero troppo piccolo. Secondo me sì. Cioè, Catena è bravissima. Catena io lo amo, l'adoro, lo sposerei. Ci andrei a fare anche dei figli insieme. Però, come dire, Facchinetti era proprio... Era il suo. Era il suo. L'avete letto anche il tweet del conduttore di due stagioni fa, se non sbaglio, di X-Factor, che ha detto... Sì, però dovevate dire anche che sono stato io a non voler rinnovare il contratto. Perché poi sembra che siete voi che mi avete cacciato. Quello lì, poverino, quello lì, poverino... Mi conosco come si chiamava, poverino. Perché poi è un bravo attore. E io quando ho letto Tot Tot ha scritto questo, ho detto... Chi? Chi? Io, Lenzio Masieri. Ah, no, ecco chi. Sì, no, poverino. No, sono io che non lo seguivo. Sì, però, poveretto, gli hanno dato... Era la prima edizione dopo Covid. Un'edizione fatta malissimo, che era tutta montata, tutta non in diretta, tutta una roba brutta, brutta. Peccato. Sostanzialmente Morgan e Fa Morgan, cosa dobbiamo fare? Eh sì, Morgan Fa Morgan, come i Blur, fanno i Blur con Song 2. Adesso, eh, come sempre. E per la felicità di Masieri, eccola qui, Italo Disco, che ti scalda la giornata, sei contento? Vedi che l'ufficio di programmazione, senza neanche aver chiamato, ha fatto lei, ha fatto di suo. L'ufficio è proprio... TAC! Adesso mi sento... Con la AI. Hanno avuto l'AI, che è entrata nei tuoi pensieri, e con l'AI hanno programmato Italo Disco... Adesso mi sento a Ruccella Ionica. Beh, non Bancoma Libro, Ruccella Ionica. Davia Novara... Davia Novara e Ruccella Ionica. Beh, insomma, è un bel... Credo che in questo momento, qui ci siano sui 2-3 gradi, quindi a Ruccella Ionica... Deve aggiungere 1-0, secondo me, a Ruccella Ionica. È infatti buono, no? Insomma, un saluto agli amici di Ruccella Ionica. E a Giovanotti, che lo sceglie sempre per i suoi gioval beach party. Lo sceglieva, perché mai mi sa che Giovan beach party non ne fa più. La parentesi fa ancora fatica a camminare, poverino, cioè... Ha fatto un incidente niente male. Chiedimi dove sono andato ieri. Noi sai che non abbiamo dato una notizia. Ma sì, ma ci sono notizie importanti. No, cioè... No. Posso dire la verità. No, oggi no. Però vediamo dopo. Ci sono scioperi? Eh, c'è un comunicato dell'Unione Sindacale di Base, che dopo leggeremo, che è uscito una ventina di minuti fa. Dove è stato andato ieri sera? No, prima scusa, mi sono dimenticato. Francesco Prisco è il giornalista che ha scritto su Sole 24 Ore di Morgan. Andate a leggere. Francesco Prisco, Sole 24 Ore, Morgan fuori da Ex Farto, come lui, nessuno mai nell'arte di farsi cacciare. Questo è il titolo. Ma un bellissimo articolo, bene. Dicevo, dove sono andato ieri sera? Dove sono andato? Dove sono andato ieri sera? Al Bloom. Merlata o... Mezzaco? Merlata. Merlata. E alla fine sono andato, sì. Alla fine non sono andato. Sì, andato. A Magna. Sì, andato a Magna. E a nient'altro. No, ho fatto tutto il giro, di tutti e due i piani. Posso dire niente di che? No, no, non siamo affiliati. Bellino, cioè colorato. Non è anche colorato, il tuo bianco con il collegno, va bene. Invece, è una rese, secondo me, anche meno spazioso nei corridoi, non so come dire. Perché poi alla fine è una sorta di Indianapolis, cioè di circuito chiuso, che tu giri come un coniglio in gabbia, che vuoi girare, sì. No, la rese è lungo. Non puoi tornare indietro, cioè vai avanti e indietro. Ah, non è circolare. Questo è circolare. Circolare, è circolare, ok. È così. Negozi sono sempre, sono sempre quelli lì, va bene. Sono andato a mangiare. Ma sono andato a mangiare. Mangiare è molto interessante, sono praticamente un piano e mezzo di roba alla Magna. C'è tutto. Dimmi cosa vuoi mangiare? Non lo so, io li chiuderei tutti i ristoranti dentro i centri commerciali. Ho detto una cosa che chiaramente non posso ripetere, però li odio, non è che li odio, cari amici commercianti, però a me non piace mangiare dentro i supermercati. Ma non è un supermercato. Ancora dentro i centri commerciali, i mall, chiamateli come volete. Però c'è tanta scelta, mi stavi dicendo. C'è tantissima scelta. Vuoi mangiare il giapponese? C'è il giapponese. Non so se c'è un sushi adesso mi viene in mente. Ah, penso di sì, mi hai detto che ci sono tre messicani. No, no, mi dicono di no. Ci sono sì due o tre messicani. C'è uno che fa il pollo. C'è un altro... C'è uno che fa il pollo, proprio. Siccome prima abbiamo citato Buonola, mi ricordo che Buonola c'era tipo Paolino, il re dello spiedito. Paolino, il re dello spiedo. Dello spiedo. Paolino, il re dello spiedo, salutiamo. Paolino, fantastico. C'era anche la Bisceglie, l'impercop di Bisceglie. Per parco 10 li dominiamo tutti. No, c'è il pollo, poi c'è i dolci giapponesi, ci sono i dolci leccesi, il pasticciotto. C'è il pasticciotto, buonissimo, buonissimo. Sì, ieri sera poi c'era la Glicemia a 340, tipo, però, insomma. E quindi di fatica nella mobilità, parcheggi. Allora, parcheggi, sono questi tre parcheggi immensi. Quando arrivi, ti sembra che ce n'è solo uno, quindi tutti a posteggiare in sto parcheggio come dei pirla, e invece poi, salendo con l'ascensore, ti ricorgi che gli altri due posteggi sono completamente vuoti. E posti auto sulle uole? No, sono andato sul Tardi, non ce n'erano, non c'erano macchine sulle uole. Quantità di gente, velocista? Allora, dentro il posteggio sembrava tantissima, dentro ti perdi. Nel senso che è così da grande che quasi non puoi parlare con gli altri, può anche non parlare con gli altri, se vuoi. Leo Gasman, Terzo Cuore. Altra canzone di Sanremo di qualche anno fa. Sì, sì, sì. Quindi continua la nostra ricerca di perle all'interno delle 18 canzoni che cadono nel dimenticatoio un mese dopo Sanremo. Sì, ti sblocco un Sanremo. Ti sblocco un Sanremo. Dei Sanremo precedenti, tolte i vengoni, gli ultimi eccetera, e tirerete fuori delle chicche che, ah ma quella lì è quella che comunque è canticchiavo quando veniva fuori eccetera. Finite poi nel dimenticatoio. Magari vi ricordate di quella volta che sul divano con la nonna guardavate Sanremo. Sì, c'è anche la parte sentimentale. Infatti, magari ci vi ritorna quel ricordo. Va bene. Possiamo andare con le notizie se vuoi. Alle 7.38 iniziamo con la rassegna stampa. Adesso, come per onestà, abbiamo detto, non è che ci sia tutta sta roba. C'è un comunicato. C'è un comunicato. C'è un comunicato. Un comunicato che è uscito ieri, ieri nel pomeriggio, perché l'Unione Sindacale di Base scrive, le organizzazioni sindacali di base hanno proclamato lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore, territorialmente articolato per lunedì 27 novembre. Poi ci sono chiaramente le ragioni, se volete... Scusa, ripeti la data? Lunedì 27 novembre. Ah, lunedì, scusa, ho detto venerdì, non c'è venerdì 27 novembre. Andate a vedere le ragioni e poi il comunicato si chiude dicendo lo sciopero e le mobilitazioni collegate saranno illustrate in una conferenza stampa venerdì 24 novembre a Roma e a Milano. Il che vuol dire che venerdì mattina... Dopo che siamo in onda noi, non possiamo dare la notizia. Dopo sarà per le 11, esatto. Eh, non possiamo dare la notizia, però. Eh, vabbè, allora... Chiamali, di chi da anticipare? Anticipare dal Cile News. Eh, capito, scusa, cioè come facciamo noi da sta notizia? No, ti consono, non la da neanche Fiorello. Ah, ok, vabbè, allora siamo in buona compagnia. Sì, alle 11 appunto venerdì verranno presentate le modalità e lunedì ci sarà appunto questo sciopero, capiremo poi nel corso della giornata se ci sono delle news. Stavo notando che su Milano News siamo più belli del solito oggi. Siamo più nitidi. Sì, siamo più nitidi, più belli, ma abbiamo cambiato il monitor nuove, forse solo per quello. Ricordiamo che ci potete vedere sul canale YouTube di Milano All News. Sì, anche Twitch. Anche Twitch. Anche Facebook in realtà è in diretta. Se non ricordo male. In realtà se non ricordo male, dovrei controllare in realtà. Dove chiedere a Cristina la nostra social media manager? Motorini, elettrici a Milano. Ah, è una bella cosa. È una bella cosa, chiude. Che senso? Come? Che senso chiude? City Scoot, che è una delle... Ho fatto la buonamente e non l'ho mai usato, penso. Allora ti sarà arrivata l'email, come è sottoscritto. Ma non leggo le mail, io non lo sai. Non lo so, purtroppo lo so benissimo che non leggi le mail. Poi vi parleremo di questa cosa che boicotto le mail ormai da un paio d'anni, se non di più. Sostanzialmente il servizio che appunto era nelle città di Milano e Torino, per evidenti difficoltà finanziarie appunto viene annunciato in una mail che è arrivata a tutti gli utenti ieri dicendo avremmo preferito darvi una bella notizia, ma sostanzialmente dal 30 novembre il servizio non sarà più disponibile per i motorini elettrici. E dove finiscono i motorini elettrici adesso? Nel naviglio anche quelli. Ahimè finirà così. Allora Simone Lunghi, finirà a fare una bicicletta, ok, motorini ma voglio vedere però. Quando una start-up del genere arriva a Milano, vuol dire che ha le spalle, ah già, Londra è le principali capitali europee. Magari in qualche capita, cioè penso che il servizio si discutta da qualche parte. Quindi li rigirano. Ah via, secondo me sì. Quindi adesso magari, oh cercate, magari prendono gente che vada in motorino elettrico da qua a Londra, per riportare i motorini là, no? Io so che l'ultima volta che mi hanno comprato una roba da Parigi ci hanno fregato come non so che cosa, ti ricordi la storia di Clear Channel che ci ha venduto al comune gli stalli per le Bikemin, dicendo che erano nuovi invece erano di seconda mano ripitturati da qua di Parigi, c'è tutto un casino in ballo ancora adesso, multe non multe. Sì sì sì, mi hanno speso non so quanti soldi perché ci siamo fatti fregare bellamente. No, non la sapevo questa cosa. Sì sì, andate a cercare l'autizio di qualche mese, l'anno scorso. E poi c'è anche il fatto che a Milano comunque City Scoot sono stati tra i primi ad arrivare se non sbaglio insieme agli altri, vabbè tanto per par condizio diciamo le Cultra e qualcos'altro se non sbaglio. C'è Cultard? E Cultra si chiama. C'è Cultard che è il suo che guida, Cultard era uno che guidava in Formula 1. Non guardi neanche la Formula 1 perché non potendoti succedere di guidare una Formula 1 non la guardi. No, non mi capita di guardare. Infatti con la tua logica tu non guardi neanche tipo la Serie A di calcio, intanto non giocherai mai in Serie A tu. La guardo, la guardo, ma non è che... Arrampicata, la guardi. Deve essere surreale. Non deve essere surreale. Non deve essere surreale. Se guardo The Wrestler con Mickey Rourke non è che voglio menare qualcuno, però Mickey Rourke lo può fare e quindi... Però non vai a mangiare nei mull? No. Questa cosa no. Però vai a mangiare la fede dell'artigianato? Però mi... Sì. Quando è che inizia? È tutta altra roba. Il 2 dicembre mi... Stai facendo il countdown? Ce l'hai sul... E continuano ad arrivare le mail? Mi sa che hanno la mailing list che parte alle 7 del mattino, infatti appena arrivo in redazione mi arriva la mail. Eh facciamola, ovviamente apriamo una pagina... Porta tutta la famiglia. Abbiamo una pagina alla mail del fiero dell'artigianato. Oggi cosa ci raccontano? Dell'artigianato in fiera adesso. Scusa, scusa, artigianato in fiera. Artigianato o artigiano? Artigiano in fiera. Wow, wow, wow. Si chiama così questa canzone? Wow. L'iccaiano. Wow, 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 wow. 7,46 minuti. Questo è un sospiro per dire che comunque la mattina va avanti nel sonno generale di tutti quanti. Ma non più... No, io mi sono svegliato. La verità, le tue belle notizie che mi stai dando questa mattina mi hanno svegliato. Sì, sì, mi metto che... Allora, City Scoot, denunciatelo. Perché le belle notizie... No, mi spiegherà da City Scoot, poverini, cioè... E' un abbastanza... No, è che magari... Non lo dico anche... Ma poi c'è strama che devi mettere il casco che si è messo un altro... Beh, però c'è la cuffietta. Appunto, sembri un deficiente. Ma no, ma cosa vuol dire? Ma no, la vedi la cuffietta? Eh, ma sai, la tua degnità si basta, cazzo. È che c'è talmente tanta scelta, secondo me, che purtroppo... Ma tu dici che è quello? Eh, c'è... Secondo me sai che invece il problema non è la scelta, ma il problema è che la gente proprio non li usa? È... Cioè, vivono magari in una zona più centrale della città, quindi non è che non muoversi proprio di tanto. Non lo so. Io sai che poi arrivo subito alla lotta di classe, no? Cioè, subito così. Arrivo subito a dividere Milano tra milanisti e interisti. Vabbè, capiremo. Magari poi viene fuori qualche cos'altro. Si parla di difficoltà economiche senza fare riferimento a niente. Dubito che chiaramente danno delle spiegazioni più... Beh, sì, non credo che dicono. Lo sapete, perché è imbovisa. Cioè, Mascherino non lo prende mai. Cioè, non credo che... No, invece... E invece io penso che... Ma l'hai mai usato tu? Ma una volta mi è capitato. Lo sharing... Per andare al... Per andare in Porta Venezia, che c'era l'eclissi lunare. Ok. Tipo alle tre di notte. E perché proprio in Porta Venezia? Perché c'era l'osservatore... C'era un qualcosa, un'associazione... Ah, ok, ok. Che metteva i telescopi in... In piazza. Dentro i giardini di Romontanelli e si poteva vedere ed era una bella cosa. No, non era alle tre, erano tipo le... Vabbè. Quattro e mezza, cinque del mattino all'inizio. Ah, vabbè. Molto carino. E non sapevo come arrivarci. Allora... Esatto il... Sì, ma tipo un sacco di tempo fa. City Scoop. Avevo 14... No, scherzo. Scherzo. No, eh... E cosa funziona effettivamente? Volendo un mino N che mi lantava... Ah, no, beh, no. No, devi mettere la patente. No, devi mettere la patente. No, quello che ti stavo dicendo. Tu dici della Bovisa. Invece, secondo me, lo sharing degli scooter non lasciano Milano solamente perché esiste. Bovisa. zona Bocconi è quella roba lì perché l'utente per il 90% degli scooter elettrici è universitario. Ma costa però, cioè... Dai, non pensavo. Costa però evidentemente... Molto utilizzato dall'università. Effettivamente la Bovisa... Vabbè, c'è il treno che ci arriva. Però no, effettivamente la Bovisa è un po' staccata. Anche Bocconi, a parte poi dipende sempre dalla disponibilità finanziaria. Poi tu va bene, comunque, si sa che quelle zone lì, Bazzi, Bocconi... No, proprio no. Tu ti dicevi proprio sulla economia. Se farei 63, 23 meno 63, siamo niente di scemi per la zona che abbiamo fatto faceva. Comunque, Arianna Censias, sessora alla mobilità del comune di Milano, ieri pubblica un posto in cui sostanzialmente dice prosegue il lavoro di trasformazione della città perché è partita ieri la riqualificazione di Piazza Cincinnato. Piazza Cincinnato che tra l'altro viene citata dai Baustelle nell'ultimo disco in Milano e la metafora dell'amore. E pensa che io sempre ho pensato che fossi Piazza Cincinnati. Invece poi ho pensato che non c'entra niente. Cioè io pensavo che fossi Piazza Cincinnati e la gente diceva che è letto male. Invece no, è Piazza Cincinnato. E quindi pubblica il solito rendering, chiaramente. Quanti alberi ci sono? Tantissimi. E poi soprattutto molto spazio ai pedoni e vedo una strada con i tram come diciamo quella che ci possiamo immaginare se pensiamo alla Milano del futuro. Tanti alberi, la piazza pedonale, spazi pedonali e una strada con i tram che passa avanti e indietro. Questo è il rendering. C'è anche in Sim City quel tipo di strada. Se me l'hanno fatto con quello per rendere in Gli. Vabbè, la Milano è una città dei render. Ce l'ho da fare. The City of Render. Aggiunge, come ha detto l'assessore Maran, questa è una riqualificazione fortemente evoluta da tutto il quartiere che migliorerà nettamente l'aspetto e il futuro della piazza. 3.500 metri quadrati, aree pedonali, verde, pavimentazione di pregio, arredi urbani, illuminazione LED, ma soprattutto stop alla sosta selvaggia. Avanti con coraggio. Arianna Censi. Ecco, vabbè. Ma perché c'è il forum della mobilità in questi giorni? Per quello sono parlato di tutte queste cose anche. Adesso capiremo per bene. Sì, sì, c'è il forum della mobilità. So che dovremmo avere un'intervista settimana prossima a Milano News con l'assessore Censi che ci racconterà un po' quello che è avvenuto e sta avvenendo nel forum. Dal 26 al 28 novembre. Ecco, vedi, mi ricordavo. Il 26, quindi... Da domenica a martedì. Sarà interessante vedere cosa ne esce perché sappiamo che, insomma, c'è da rivedere sicuramente un po' il discorso di mobilità anche, veramente, alla luce anche della notizia che ho dato prima. Cioè, puntiamo sullo sharing, puntiamo su quello, però ricordiamo che... Come si chiama? City Cool? City Scoot. City Scoot, chiude. E poi abbiamo già avuto anche delle altre di biciclette che se ne sono andate. Il car sharing, insomma, ogni tanto vanno, ogni tanto vengono. Nelle zone periferiche non vanno. Quindi, parliamo tanto di mobilità in mobilità, ma poi bisogna capire un po' come gestirla. Il forum della mobilità si chiama, giusto? Esatto. Mobilità e basta o forum mobilità sostenibile? Forum mobilità, 26-28 novembre, al servizio delle persone e della loro salute. E andiamo con i gazzelle adesso. Destri, la conosci questa? Certo. 2020. Oggi viaggiamo un po' nella musica. Era gazzelle con Destri, alle 7.55 minuti, qui su Crystal Radio. E adesso, fra poco, ci fermiamo per la piccola pausa dell'ora, no? Breve news. Breve news. Brevissima news. Quando noi diciamo Coima, che sostanzialmente a Milano è importante, mettiamola giù così, ecco, molto importante, farà anche l'albero in Piazza Gaolenti. Anche l'albero di Natale in Gaolenti sarà... Lì è casa sua, è tutta roba sua, è tutta roba di Coima, lì Gaolenti. Coima e Warner Music Italy. Hanno immaginato appunto per queste feste un albero alto 13 metri, formato alla base da 5 stanze interattive e un tunnel, ognuna a un tema musicale dedicato. Ah, perché c'è la Warner. Esatto. Adesso che ci avviciniamo a Natale, sicuramente verrà fuori l'albero di Natale in Duomo con me, l'albero in Gaolenti con me. Che cosa fa? Non si sa ancora, non si sa ancora. Io non lo so, sicuramente se cerchiamo. Comunque, non penso all'albero di Natale, evidentemente è Spelacchio sempre, sempre, sempre... Ci manca un po'. Era bello. Comunque sì, albero di Natale in Duomo, albero di Natale... Che l'amministrazione Raggi sia ricordata solamente per Spelacchio, a Medafast, pur non essendo particolarmente sostenibile. Perché? Ma perché? Ma è sempre bello un po' lo sfottò verso Roma, ci sta, gli vogliamo bere alla fine noi ormai, no? Fai bello un po' prendermi in giro, cioè, siamo a capitale, siamo a capitale... Così fa, no? Ti ricordi quando... Spelacchio! Ti ricordi quando quelli degli Atac sono venuti da noi, dal sindaco Sala, a dire di dare tipo uno dei... di prestare uno dei dirigenti di ATM e lui fa no, questo no, è andato un po' più in basso e ne ha prestato un'altra, pensa a te, pensa a te. E' così, ma sai, è sempre simpatica sta cosa, dai, ci sentiamo fra poco! Rebel Rebel, David Bowie, 8 e 08, 09 in questo istante. E ringraziamo l'ufficio programmazione per il Cristalistori. Cristalistori è sempre una certezza, arriva sempre cose dall'altro mondo. E il Cristalistori sembra quando io chiedo al mio assistente vocale di riprodurre un po' di musica che mi piace. Ah, così? Quando dico, riproduci un po' di musica che mi piace, Rebel Rebel... Così dice, aspetta, Alexa! Adesso quelli che ci stanno ascoltando gli ha partito l'Alex in casa. Che cattivo! Ok, Google! Che cattivo! Ehi, Siri, li faccio tutti così almeno adesso... Mi è partito, infatti! Così ci facciamo odiare, così ci facciamo odiare. Mi è partito, mi è partito. Riprendiamo un po' con le notizie. Alexa, spegni le luci! Dai, ma... No! È partito il nostro Alexa che stava spegnendo le luci dello studio, per fortuna che non erano collegate, meno male. Allora, riprendiamo un po' con le notizie. Allora, questa notte un incendio in Via Ravenna... Dimmi... Io non posso fare il pirla e poi tu parti con queste notizie così drammatiche. Eh, Fabio, per le notizie buone... C'è Filippo Poletti. Ah, ok, giusto. Noi abbiamo le notizie quelle che ci sono, che purtroppo non sono mai così positive. No. Incendio nella notte, auto a volte distrutto dalle fiamme in Via Ravenna, in zona Corvetto, nella notte tra martedì e mercoledì. Nessun ferito e nessun intossicato, però ancora da chiarire cosa abbia innescato il rogo. Poi, lettera che parte... Ho urlato troppo. Sì, è stupido. Lettera che parte con mittente, diciamo, l'ex presidente della provincia di Varese, Marco Reguzzoni, destinatario sindaco Sala e basta. Ok. Al quale chiede di confrontarsi però con chi? Con Fontana e Salvini, per cosa? Perché a 75 anni dall'apertura dell'aerostazione, quindi di Malpensa, è arrivato il tempo, proprio adesso, eh, di battezzarlo. Ci siamo capiti? Non basta un bel vedere? No, ecco, bravo. Ci siamo capiti. Non basta un bel vedere? Ci siamo capiti, ecco. È richiesto al sindaco Sala, appunto, di confrontarsi. Perché Malpensa non è nominato a nessuno. Eh no. Ci permettiamo di richiedere al sindaco di Milano, Beppe Sala, di rimuovere questa manchevolezza, scegliendo una buona volta il nome da assegnare. Dice Marco Reguzzoni, ex presidente della provincia di Varese. Eh sì, perché quello di Linate è intitolato Forlanini. Se si chiama aeroporto di Milano, Linate e Enrico Forlanini. Ma Malpensa non è nominato a nessuno. Beh, io vado a chiedere se lo fanno nominato a noi. Sono passati 75 anni dall'apertura dell'aeroporto di Malpensa al traffico commerciale e 25 dall'inaugurazione del Terminal 1. Direi che è un lasso di tempo sufficiente per battezzare lo scalo. Adesso io non voglio pensare. Aeroporto Fabio Lorenzo. Secondo me sono anche bene. Secondo me aeroporto SB. E non sono i supermercati prianzoli. No. Non è quello. Però capiremo, capiremo, seguiremo anche questa cosa. Posso dire, forse non è una priorità. Forse non è una priorità. No, però va bene. E adesso, effettivamente, quello della provincia, il presidente della provincia di Varese ha detto no. Sì, però ho paura. È che è molto, cioè, giustamente. Allora, in me in condizioni normali, però ho paura che c'entri un po' quella cosa lì. E ricordiamo che c'è la legge che permette, a livello comunale, che non permette di intitolare vie se non sono passati almeno dieci anni dalla morte della persona interessata, ecco. Qui sono passati neanche dieci mesi. Seguiremo, sì, però magari lo dico semplicemente perché lo vuole intitolare, eccetera. Adesso siamo noi che pensiamo male. È sempre a pensare male noi due, eh. Ma dai, 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 dai. Noel's Gallagher adesso con Easy Now. Noel's Gallagher's High Flying Birds con Easy Now alle 8 e 16 minuti. Ben ritrovati. 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5. Scusateci, oggi vi stiamo... Vi abbiamo dato poche volte il numero e vi... Come si dice in italiano? Vi diamo poca attenzione. Scusate i messaggi. Chiedo scusa quindi a chi ci sta scrivendo. Li leggiamo tutti dopo. Giuro. Giuro. Però adesso... Cioè, li leggiamo tutti con calma. Nessuno ciò che è un po'. Adesso non ce l'ha. Non era quello. Non stavo dicendo quello. No, no. Abbiamo le notizie da dare. In realtà poche notizie. Anche disastrose in realtà. Ma ci hanno preso oggi. Quindi... Sì, no, beh. Comunque qualcosa ci sta tenendo in servo... Ah, la ciccia, la ciccia. No, c'è un qualcosina su San Siro. Ma ne parliamo un po'. Ne parliamo dopo. Innanzitutto, esce, viene pubblicata online la nuova guida eduscopio. 2023 della Fondazione Agnelli che sostanzialmente classifica le scuole. Quindi è una guida sostanzialmente per... Oh, bravo comunque. Principalmente... Cioè, oltre a cantare con gli after hours, oltre ad aver fatto X-Factor, adesso fa anche le guide... Bravo Mario Agnelli. Bravo proprio. Complimenti. In sostanzialmente... Non è lo stesso. No, non è lo stesso. Mi serve quello un po' più di... Ah, Fondazione Gianni. A che fare con qualcosa di vecchia data, diciamo. Cioè, quella famiglia là, non so se è in Fondazione Agnelli, forse è della sorella, mi sa. Vabbè, sostanzialmente è un po' un... Perché ogni giorno, se andate a vedere le varie testate giornalistiche locali, c'è il ranking di tot testata sulla qualità dell'aria, e c'è il ranking di tot testata sulla qualità della vita. Sai, ci sono sempre queste robe qua. Però vabbè, questo lo citiamo. Perché Milano perde il primato e scende al terzo posto, il Sacro Cuore, che è il liceo paritario, che è stato superato da due licei statali, Casiraghi di Cinisello, Invetta, e poi lo storico, adesso lo leggo male, Berset. Berset, 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 Berset. Storico liceo di Milano, Berset. Il primo è un liceo valtellinese. Ah. Sempre, chi si posiziona nelle prime posizioni appunto di ranking è sempre tipo nel nord Italia, nord, 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 proprio montagna, è tipo la qualità della vita, è sempre Bolzano. Anche recentemente, è sempre Bolzano. Sì, sì, sì. Comunque, sono stato a vedere la Fondazione Agnelli, e sai quando vogliono confonderti? Sì. Perché sul sito della Fondazione Agnelli c'è scritto Chi siamo? E ora vado a legge, c'è scritto È un istituto indipendente di ricerca nelle scienze sociali senza scopo di lucro. E' fin qua, chiaro. È nata nel 1966 a Torino, dove ha la sede, per volontà dell'avvocato Agnelli. E quindi, ok. In occasione del centenario della nascita del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni Agnelli. No, eh no. Eh, no, però non ho capito. Allora, cioè, Giovanni Agnelli non è nato nel 1866, quindi non può essere. Gianni Agnelli, l'avvocato è Gianni Agnelli. Certo. Quindi, il papà di Giovanni Agnelli non si chiama Giovanni, questo lato a vedere. Ok. A meno che il nonno si chiami Giovanni. Adesso vado a controllare come si chiama il nonno di Gianni Agnelli, perché forse può essere quello. Ma i nostri amici di Cristalradio. Mi sono perso. Eh no, vabbè. È l'albero genealogico della famiglia Agnelli. Alle 8 e 19, non gliene frega niente a nessuno. Ecco, a posto, Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, papà di Edoardo Agnelli, che a sua volta era papà del Gianni Agnelli, avvocato. Adesso ho capito. E' stato risolto un mistero che non c'era in partenza. Ho capito, però se uno si perde delle cose, cioè, questo vizio di chiamarsi tutti uguali. Cioè, Giovanni, Edoardo, tutti Agnelli. Tutti Agnelli, soprattutto. Vabbè, ma secondo me, vabbè, io mando un po' di musica. Ciao, mando la musica. Andiamo, andiamo. Chille Lauro e Rosviglia. Ah, che vuoi? Rosviglia, che pensi che sia uno, invece è una. Non capisci più niente. Ma certo che è una. Eh, ma io pensavo fosse quell'altro, Chemical Rose, lì. Rosa Chemical, pensavo fosse questa cosa. Sono diverse. Chille Lauro, Rosviglia, Fragole. Un saluto a Rosviglia. Villen. Vabbè, io stavo per dire che mi sta simpatico, però posso di cambiare questo nome, perché io non ce la faccio. Ne la faccio. E poi pensavo sempre a Rosa Chemical. Eh, vabbè, non è lui. E lo so che non è lui, non è lei pura. Quando pensi a Gallagher, siccome mettiamo sempre noi Gallagher, non mettiamo mai lì. Non ho la mia idea di quale sia dei due. Eh, appunto. Cioè, per me sono la stessa cosa. Quindi, Amen. Sia Noel o Liam. Noel è quello più drogato. No! 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 Liam è quello più drogato. Noel è quello che vazzica spesso Milano. Noel è quello che va da Fazio. Non fa le interviste. Ok, ho capito. Bravo. È quello con la faccia più slungata. Eh, beh. Sì. È quello più vecchio. È abbastanza soggetto. È quello più vecchio, no? Ma non lo so, fammi. Ma non lo so. Dici a me, anche tu sai chi sono. Ho capito. Sì, ce l'ho di faccia, ma non so se è più vecchio o meno. Ce l'ho di faccia. No, ce l'hai di... Ce l'hai di faccia, ovvio che ce l'hai di faccia. È tifoso del Manchester City, che spesso è anche a Milano. Manchester City? Non United? No, ma stai scherzando. Sfegatato del City. Che c'è? Non immagini qualcuno. Forse è Robbie Williams? Non lo so. Con la maglietta del Manchester. Vabbè, a proposito di calcio, velocissimo. Velocissimo. Udienza della seconda sezione del TARC avrebbe dovuto pronunciarsi sulla sospensiva chiesta da Palazzo Marino per la questione del vincolo, eccetera. Fumata grigia, perché è tutto rinviato. Cosa è la fumata grigia? Non è bianca né nera. E infatti è tutto rinviato a dicembre. Vabbè, ok. Noi invece non rinviamo la nostra pazza musica. Anzi, sì, pazza musica con Marco Vingoni e Lodi. Pazza musica su Cristal Radio. Andiamo. Pazza musica, pazza musica. Ah, ah. Allora, continuiamo? Continuiamo con le notizie. Velocissimi. Ieri, adesso partiamo un po' con la rassegna social. Dopo aver letto, scusate, la decisione sulla questione di San Siro, ossia sostanzialmente che è stata rimandata, sono entrato su Facebook e chiaramente chi non poteva non commentare. Radio Carlo Monguzzi. Carlo Monguzzi, che sarà ai nostri microfoni venerdì, lo dico così poi non c'è possibilità che succeda qualcosa, no? Carlo, ti abbiamo incastrato. Venerdì sarà ai nostri microfoni Carlo Monguzzi e parleremo di tantissime cose, magari anche della vicenda San Siro. Scrive, il TAR non decide sulla sospensiva del vincolo su San Siro, chiesto dal Comune. Un'altra vittoria per noi. Il Comune Green è di sinistra, poi il Comune Green è di sinistra che chiede di annullare un vincolo a protezione dell'ambiente. È veramente una cosa fuori dal mondo. Smetta il Comune con questa battaglia assurda e riconosca la realtà. Sempre belle parole per il Sindaco, per la Giunta e tutto, però comunque questo è San Siro che veramente sta rasentando il ridicolo oramai. Poi, sempre su una breve rassegna social, Samuele Piscina, consigliere dal Comune di Milano della Lega, molto attivo sui social, diciamo, mette un video in cui si vede Viale Monza con un'ambulanza che fa fatica, ma nemmeno tantissimo, a passare in mezzo. Tu devi dare la notizia di commentarla. La notizia è, Samuele Piscina pubblica un video del marchiato Lega in cui si legge Viale Monza, ambulanza bloccata nel traffico, cause piste ciclabili. Ecco le folle politiche sulla mobilità della sinistra. Bravo, adesso commento del video. Adesso posso commentare, adesso posso commentare. Anche noi siamo i primi a prendercela con le politiche di mobilità e non solo della Giunta. Sì, no, però diciamo, non li difendiamo quasi mai. Mai, 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 mai difendiamo. Perché a volte è difficile. Però oggettivamente adesso, che sia colpa delle piste ciclabili, perché un'ambulanza non riesce a passare, cioè c'è la classica situazione che si crea quando senti il suono dell'ambulanza. Magari c'è quello che ha la musica alta, che non la sente. Le macchine sono in doppia fila. No, qua c'è la ciclabile. Eh sì, ma capito, però le macchine sono spostate. Dai, per gli amici della radio. Sì, no, stiamo guardando un video. Sì, però ci passa. Cioè, le macchine si spostano. Nel momento in cui ci si sposta, come sempre. Ma è che se non ci fosse la ciclabile, cioè uguale. Ci sarebbe sostanzialmente più posto per la cosa. Ci sarebbe, a posto che due corsie e una dedicata alla ciclabile, ci sarebbero tre corsie. Posso dire, semmai qui il problema è anche qua, il codice della strada. Perché potremmo sentire che invece le ciclabile facciamo leggermente più larghe. Così ci passa a metterlo, se in caso, l'ambulanza. Potremmo anche fare una cosa del genere. Non lo so se... No? Invece, ad esempio, in Germania c'è questo problema. Cioè, noi abbiamo un problema sempre nell'autostrada delle corsie preferenziali. In Germania succede questo. Quando c'è un incidente, le macchine invece si aprono. E quindi lasciano una corsia d'emergenza fittizia, cioè che nasce dallo spostarsi, nel centro della carreggiata. Così viene più com'è. Però c'è sempre quello che va in parico. Mi ricordo che una delle prime cose da neopatentato era paura che uscisse fuori dalla parte. Allora, sono amica tutti neopatentati questi. In Viale Monza c'erano solo neopatentati. No, c'è quello col telefono. Non ho capito. Però purtroppo è vero. C'è quello col telefono, c'è quello con la musica alta, c'è il neopatentato, eccetera. Può succedere adesso che c'è colpa della ciclabile. Anzi, meglio che vengano le ciclabili così più gente va in bicicletta e più gente va in macchina. Comunque, quella ciclabile lì io la toglierei domani. Io la toglierei domani. Samuele Piscina, non te la prendere perché io la toglierei domani. Per altri motivi ma la toglierei domani. Va bene, dimenticate tutto. Stop, dimentica, Tiziano Ferro 2006. Pensa quanto tempo ci ha passato. Però è un grandissimo pezzo. Eh sì. Sempre, sempre verde. Allora, Fabio, sostanzialmente, parliamo di cosa vogliamo parlare? Cerchiamo un po' di... Ah no, parliamo... Mi sembra che non sai cosa dire oppure hai una lista lunga e non sai dove partire? Non ho capito? Poca roba. Poca roba, ragazzi. Oggi non è successo veramente... No, beh, ci sono le solite vicende, chiaramente, del chiusura in tangenziale. Andate a vedere le... C'è la lista di chiusura in tangenziale, ma questa... C'è Luce Verde che ci aiuta. Sì, sì, ci aiuta. Andate sempre sul sito di Luce Verde. Ci sono tutti gli aggiornamenti. Ci sono un po' di... Ancora battibecchi tra polizia... Tra vigili urbani, tra polizia locale e comune. Sapete che c'è forse in ballo, si deve ancora capire, uno sciopero previsto per Sant'Ambreuse, l'avevamo già detto, anche questa cosa. Tutti quei discorsi lì. Quindi, noi andiamo sull'almanacco. Sì, andiamo sull'almanacco. Andiamo sull'almanacco e capiamo cosa è successo nella storia il 22 novembre. E la prima cosa, chiaramente, è quello che dicevo prima. 60 anni fa, a Dallas, venne ucciso l'allora presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, per mano, si dice, di Lee Harvey Oswald, ma poi da lì nascono qualsiasi complotto. Io credo sia veramente la madre di tutti i complotti quella, o meglio, di tutte le teorie complottistiche. Ho sentito delle robe su Pearl Harbor, guarda. Anche su Pearl Harbor, va bene. E nasce Scarlett Johansson, 39 anni fa. 39 anni fa, andata a recuperare Jojo Rabbit, che è un film stupendo per recuperare. E Boris Becker nasce, tra gli sportivi, 56 anni fa. Adesso che sta ritornando ancora di più in voga al tennis, grazie a Yannick Sinner. Posso confessare una cosa? Prego. Si fa schifo il tennis. No, 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 anzi, ho visto anche la finale, che ho scoperto praticamente tre settimane fa che Sinner era italiano. Infatti non capivo. Perché lo stavamo motivando tutti. Infatti non capivo tutto questo entusiasmo intorno a questo Sinner. Dicevo, il solito americano che... Non so perché mi ero messo in testa che era americano. Dicevo, vabbè, basta, è finito l'epoca dei non americani, ritornano i soliti americani che vincono tutto. E non capivo, infatti. Ah, ecco perché, perché è italiano in realtà. Eh sì. Mi ero perso un piccolo... Sono quelle cose che se ti perdi dei piccoli particolari rimani un po' ebete nel tuo... Tra l'altro hai seguito quella roba lì di Fazio. Dimmi, 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 dimmi. Che è finita la finale. Sì. Djokovic, che finale ricordiamo in diretta sulla Rai. Sì, 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 sì. Pensa che lo dicevano, io l'ho seguita. Gli stessi commentatori erano stupiti di questa cosa. Che fosse in diretta. Sì, ognuno diceva, ma che pensa, siamo in diretta su Rai 1. Però finita, però finita la partita, cosa è successo? Che Djokovic ha fatto il collegamento con il 9. A sorpresa con Fazio, che tra l'altro, infatti, alla fine della brevissima intervista con Djokovic, alla coppa degli ATP Finals di fianco, fa, ma che bello che succedano queste cose al 9, non ce ne andiamo più. Adesso sta roba qua che ogni 3x2 debba fare la stoccata. Pensa che è stato anche ospite al Jalapa Show, a Fazio. Sì, sì, ha fatto l'apertura. Ah, qua nel garage. Sì, qua nel garage. Sono un po' indietro. Secondo me si sta divertendo. Sì, sicuramente. È un po' più rilassato, forse, come ambiente, non so come dire. Anche se ho visto, tipo, in uno spezzone del Muschio Selvaggio, che fa, sì, no, tutto bello, la prima puntata, grandi ascolti per essere su un 9, eccetera. Però la prima cosa che ho pensato è, beh, adesso ne mancano 350, perché c'è un contrattore del genere, e quindi c'è tipo davanti l'infinito del 9. Chissà cosa sarà il 9 quando finirà Fazio. Sarà un 11. Cioè, sarà diventato più grande, sarà diventato, non lo so. No, per dire che... Salutiamo Antenna 3, che è sull'11, ad esempio. Piano piano, ci si sta sempre di più portando. Diventirà magari Fazio Channel. No, vabbè, adesso non è così. Tu sai che doveva nascere, tantissimi anni fa, quando è nata la sette, doveva nascere il Fabio Fazio Show, che poi non fu mai... No, lo sapevo. Sì. L'hanno fatto Fiorello e... Non fu mai fatto. No, è quello che poi in realtà è diventato poi anni dopo... In realtà poi Fabio Volo fece qualcosa del genere, sempre sulla sette in quegli anni, ma il Fabio Fazio Show era qualcosa veramente... Un Letterman italiano, molto prima di Cate, davanti a me degli altri. Poi però, insomma, non andò in porto, poi lui andò alla Rai, invece che, appunto, andare alla sette e quindi... Queste dinamiche tra televisione privata e televisione pubblica mi fanno impazzire. No, era molto affascinante. Io ho avuto la fortuna di conoscere gente che aveva... Perché hanno girato il pilota, eh? Hanno girato il pilota del Fabio Fazio Show e chi l'aveva visto diceva, ragazzi, qui si rivoluzionano la televisione. E infatti non si è fatto. Non si è fatto. Sempre così, il mondo della TV. Dal 22 al 25 novembre celebriamo insieme, scrive il Comune di Milano in un comunicato, Food Wave, Food Policy Milano. L'evento... Capisci perché poi io non voglio. No, scherzo. L'evento Feed Your Future. Sostanzialmente sono quattro giorni intensi di eventi, incontri e confronti dedicati a promuovere un sistema alimentare sostenibile a partire dalle nostre città e dal nostro piatto. Con, chiaramente, il link di tutti gli appuntamenti appunto della rassegna. Bellissimo, eh? Domanda. Ma chiamarlo Nutri il tuo futuro? Invece di Feed Your Future? Urbanizing Food Solution. Ma basta. Sotto dialoghi sul cibo. Adesso ovviamente divento... Com'è che quello di Giallapascio, Galeazzo, Ciano, come si chiama lì? Nel senso, divento... Però è esagerato così. Adesso non ti dico di dover difendere l'Italica penisola, ma nel senso, un minimo. Adesso, fai una manifestazione, non c'è una parola che si capisca. Adesso, no, non è vero. Così poi siamo un boomer del cacchio. Non ha senso. Non ha senso. Cioè, capisco tutte le parole, perché è tutto in inglese, è bellissimo, l'ho studiato, ho fatto anche le vacanze studio a Brighton, ho fatto spendere una cifra di soldi miei per andare in vacanza. Benissimo. Però, cioè, Feed Your Future. Poi Organizing? Organizing? Urbanizing Food Solution. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. e poi alla fine dialoghi sul futuro. Ma perché? Ok, chiaramente non ce l'abbiamo col comune di Milano. No, no, io ce l'ho con tutto il mondo, proprio. Cioè, io ce l'ho con tutti quelli che si inventano queste robe. Sicuramente non è lui che sceglie il... Ce l'ho con quello che viene qui ospite, mi dice che lui è id account communication, responsabile della comunicazione. Cioè, allora... Sì, guardi quando bazzico su LinkedIn e guardo le cose professionali impazzisco. Infatti. Credo davvero in inglese anche io su LinkedIn. Se io ci penso. Allora sei un incoerente. Beh, sempre, sempre, sempre. Ricordo sempre che il giovane Fabio Ranfi in cameretta sua aveva una bandiera di Cuba di 3 metri per 2 attorniata di lattine di coca cola ma pensa a te è uno simaro fidele che è morto con la tuta dell'aditus grande Gianni Minà volevo ricordarlo in questo momento Selena Gomez single soon non è vero non vuol dire figlio unico volevo dire che l'inglese lo so anche abbastanza bene ho scoperto non pensavo di saperlo bene però parlando anche qui con degli ospiti ho dovuto fare le interviste in inglese sono riuscito a portarle a casa però mi dà fastidio mi dà fastidio questo utilizzo dell'inglese ovunque come se io facessi un canale televisivo e non solo chiamassi Milano All News l'abbiamo fatto notizia piccolina finale sempre di lieve entità perché comunque non esageriamo troppo con le cattive notizie sapete benissimo cosa sta succedendo in questo momento in Italia quali sono i discorsi noi andiamo più sul leggero per scelta per scelta che ce ne vuole un po' di leggerezza senza però dimenticare punti tempi importanti su cui vi chiediamo anche di fare battaglia assolutamente poi ricorderemo ovviamente le manifestazioni in programma per sabato se non sbaglio sì per sabato 25 novembre e quindi le ricorderemo poi più avanti nel corso della settimana Natale Natale dal 7 dicembre al 7 gennaio ci sarà anche il villaggetto dove in stazione centrale ti ricordi la famosa pista da pattinaggio che l'anno scorso era stata patrocinata dalla regione Calabria ok quest'anno chi la fa? quest'anno Eni Abu Dhabi Eni mi fa un po' ridere se ci pensi è una roba che ti scalda e invece fa una roba fredda cioè mi fa ridere anche quello in cui alla base compariranno i loghi del brand Eni Plenitude è una pista da pattinaggio sul ghiaccio scoperta da 1500 metri quadrati accessibile gratuitamente hai pattinato ecco un'altra cosa che comincio a non sopportare più prego i metri quadrati no allora non si sa quant'è un metro quadrato diciamoci tu sai quant'è un metro quadrato? così a occhio lo sai quant'è? è un quadrato di un metro per un metro esatto ok sì va bene lo sto facendo è così va bene cosa sono 1500 metri quadrati? non ne ho la minima idea non riesco a quantificarmi ripeto la gente non sa quant'è il proprio appartamento 45 metri quadrati io cosa ne so quant'è 1500 metri quadrati 45.000 metri quadrati dei posteggi di Merlata Bloom che non servono a niente perché vai solo a mangiare scusate buono però io ho mangiato una roba giapponese eri buonissima questo mi dissocio chiaramente ma come tu mi insegni mettere i numeri negli articoli tira sempre sì capito ma scrivi grossa come il salotto di casa di Fedez ok lui dice ah ok a me piace molto quando c'è la questione grande come quattro campi da calcio perché così lo figura beh l'un po' lo capisci quello sarà grande come un'area di rigore a parte che il campo da calcio se lo vedi da San Siro dal secondo anello ti sembra che abbia una roba a parte che il campo da calcio dico una cosa è forse uno degli unici sport che non ha una dimensione del campo predefinita no ha un range cioè devi essere tra tra il campo da calcio sono tutti uguali ma sei sicuro sono sicurissimo di questa cosa il campo da basket mi sembra 25 metri se non ricordo male ok invece il campo da calcio può andare dai mi sembra 95 hai 120 metri una cosa del genere il terreno da gioco deve essere lungo 105 per 68 in caso di limiti strutturali e ineliminabili la larghezza può essere ridotta a 65 mentre per le partite internazionali la lunghezza può oscillare 310 100 metri assurdo quindi non c'è non c'è una misura precisa nel senso che cioè poi la UEFA dà delle misure beh chiaramente ma infatti se tu guardi il prato verde a volte non è solo più largo per motivi ma anche perché poi il campo è stato rivisto attenzione che sta per partire la nostra sigla devo fermarla e adesso non è partita sta succedendo di tutto questa mattina sta succedendo di tutto ve lo dico è un disastro va bene andiamo con la sigla che è meglio andiamo con la sigla che è meglio